Sono qui e ringrazio la professoressa Miele per questa opportunità. Non sono tanti anni che mi separano da voi, anche se ho un po' di nostalgia nei parti dall'altra parte del percorso universitario. Voglio raccontarvi un po' della mia storia, io mi occupo di assicurazioni e quindi vorrei raccontarvi come il nostro mondo sta cambiando e soprattutto come ci prepariamo per il futuro. Ma per farlo, parto dalla mia infanzia. Nella mia infanzia non c'erano certamente dei droni che volavano, probabilmente con il titolo indice anziché scorrere per un iPad prendevo una martellata dal barattolo che era nella credenza e forse con i miei amici non parlavo con i social network, non conoscevo persone dall'altra parte del mondo e non interagio con loro tutti i giorni. Io sono nato nel 1984, quella che se dubbiamo è definita la generazione Y, la generazione dei millenni. Una prospettiva, quando eravamo piccoli, di arrivare a quel famoso anno 2000 dove si immaginava che volassero gli astronavi, la tecnologia fosse ovunque e magari avremmo avuto anche un passaggio di millennio con qualche sorpresa. Qualcosa è avvenuto veramente e qualcos'altro no. Vedremo insieme. Prima il cuore del 2000, ricordo il 1998, l'anno in cui in Italia, ma direi che il mondo, è entrato l'internet. L'internet ha un po' cambiato le nostre abitudini. Io ero piccolo, mi ricordo che c'erano alcuni portali, pochi, di ricerca e pochi siti internet, forse multinazionali avevano qualche portale e pochi altri. Però c'era una grande pubblicità e c'era anche molta attenzione per questo fenomeno. Come navigavamo? Navigavamo con il 56K, forse qualcuno di voi se lo ricordava, faceva quel rumore, quel brusillo per cornettersi. A volte quando era sera e magari era troppo tardi ci nascondevamo con il cuscino per non farlo suonare, se no la mamma arrivava e diceva ancora stai al computer. Il 56K adesso, penso neanche nel sotterraneo di questo edificio potremmo avere una connessione così diventa. Pensare quanto la connessione, non solo il software, abbia cambiato il nostro modo di vivere e le nostre abitudini. Io figlio di essi curatori andavo in ufficio di mio papà e questo era l'armamento che trovavo. Una bellissima macchina da scrivere, digitale addirittura, prima ancora ce n'erano con il nastro, con cui mio padre stampava le polizze, cioè le scriveva a mano. Una fotocopiatrice enorme, ve le ricordate le fotocopiatrice di una volta quanti erano grandi e la stampante ad aghi, cioè con la carta che probabilmente qualcuno di voi non avrebbe anche mai visto, a scorrimento e la stampante che andava e faceva scorrere il foglio su cui esciva la polizze. Gli scanner, i primordiali scanner, che mio padre era quasi un precursore, erano enormi e possibili raspostati. Poi arriva internet, arriva il mondo, arriva la connessione, arriva la possibilità di dialogare e di connettersi con le persone in ogni parte. E io prima di raccontarvi come è cambiato il nostro mondo, vi racconto qualche regola che ho imparato in questo periodo. Perché fino a quando ero seduto dall'altra parte, pensavo che con tanta teoria, tanto studio e anche l'impegno, potevo fare qualsiasi cosa, potevo spaccare il mondo. Un po' è vero, dobbiamo crederci sempre, però ci sono delle cose che ho imparato con l'esperienza e che vorrei trasmettervi e intendo importante. La prima regola è questa, be timely, cioè siamo al tempo giusto, al momento giusto. Perché è fondamentale questo? Perché nella mia esperienza, quando ho iniziato a fare questo lavoro, mi è venuto in mente di creare un portale per la vendita delle polizze online. oggi direte che cos'è? E niente, semplicità, c'è un buco. Ma all'epoca non c'era e io avevo creato questo sito di internet che si chiamava Web Assicura, anche un nome facile da ricordare. Per portarvi questa attenzione, l'iridenzio è dall'anno 2009, esce un articolo di un giornale e racconta di noi, racconta di questo Web Assicura. Parto per darvi un'idea, il portale che voi conoscete probabilmente alla televisione, cioè Facile.it, esce nel 2020. Ecco, io ho commesso l'errore, in questo caso, di non arrivare al momento giusto, di arrivare un po' troppo prima. E a volte non è sempre ideale arrivare prima. Occorre scegliere il momento per calare la nostra idea al momento giusto. Questa è la prima regola. La seconda regola che vorrei trasmettervi è che dobbiamo cercare di far sì che la nostra idea sia un'idea utile. Perché se non è utile, non avremo dall'altra parte nessuno disposto a comparare. Un principio molto semplice, però dobbiamo ricordarcelo quando pensiamo a creare una cosa. La terza, che ritengo la più importante, è l'execution. Abbiamo idee geniali, poi non abbiamo la capacità di metterle in pratica. Se ci parte un video, veniamo portato ad uno che dura un minuto e mezzo. Se mi va ce lo guardiamo insieme. Come fa uno di 52 anni, attempato, che vende frullatori per milkshake, a diventare il fondatore di un impero del fast food con 1600 ristoranti e un fatturato di 700 milioni di dollari. Una sola parola. Perseveranza. Prince Castle, vendite. Ciao, Jun. Ray, va tutto bene? Certo, bene. Tutti interessati. Abbiamo un ordine, sei trollatori. Chi è il cliente? McDonald. Vuole fare un giro? Volevamo fare una cosa diversa. E allora mio fratello ha avuto una delle sue idee geniali. L'ordinazione è pronta in 30 secondi, non 30 minuti. Unico, originale, non ha uguali. È rivoluzionario. Sì, esatto, è rivoluzionario. Che cosa sono? Archi dorati. Danno riconoscibilità. Dovrebbero esserci McDonald ovunque. Affiliazione commerciale. Signor Crow. Affiliazione, affiliazione, affiliazione. Il McDonald sarà la nuova chiesa americana. E poi non è aperto solo di domenica. I am flesh and I am bone, rise up ting ting like glitter and gold. Non possiamo essere a corto di fondi. Hai ipotecato la nostra casa, potremmo perdere tutto. Rinegoziamo il mio accordo schifoso. Non posso. O non vuoi? Ray. Allora? No. Maledizione. Lei dovrebbe possedere il lotto di terra su cui quell'hamburger viene cotto. L'affare non è nell'hamburger, è nel ramo immobiliare. Franchise Realty Corporation. È un'azienda indipendente, quindi è fuori dalla vostra competenza. C'è un lupo nel pollaio e l'abbiamo invitato noi. Quando pensi di dire basta? Mai, forse. Devi fermarti all'istante. Non prendo più ordini da te. Hai un contratto, Ray. I contratti sono fatti per essere stracciati. Gli affari sono la guerra. C'è competizione, vince il più forte. Io voglio il futuro, voglio vincere. I miei fratelli sono suoi soci. Non mi interessa. Lei me ne libererà. Che nome splendido, McDonald. Dovevo averlo. No, tu non ce l'hai. Ne sei proprio certo? E alcuno di voi, penso tanti di voi, conoscete la storia di McDonald's. Questo signore, che si confida poco, vedeva frullatori e va a lavorare, a provare a vendere un frullatore a un negozio di fast food, che si chiama McDonald's. E appunto da lì scopre un'induzione, un'idea che aveva avuto qualcun altro, però non era stato in grado di metterla in pratica e di creare un franchising come quello che ha fatto lui. Quindi da lì si padrinisce dell'idea, la trasforma e diventa McDonald's. Questa regola è la più importante. Dobbiamo essere in grado di dare execution alla nostra idea. Altrimenti la nostra idea non vale nulla. La nostra idea non vale nulla da sola. La quarta regola che ci permette il web è Siate ovunque. Possiamo essere ovunque. Quindi quando creiamo, pensiamo a raggiungere target in tutte le parti del mondo, o d'Italia, o di dove vogliamo arrivare. L'ultima regola che vi voglio raccontare. Siamo aperti. Siamo aperti sempre ad ascoltare, a capire e ad applicare quello che altri stanno facendo in altri settori al nostro settore. D'altronde c'è un uomo che ci ha insegnato che l'innovazione è ciò che distingue un leader dal fondo. La parola digitale che noi utilizziamo spesso, per me non vuol dire solo software, hardware, non vuol dire solo strumenti, ma vuol dire questo, cioè imparare a guardare oltre. Noi dobbiamo utilizzare questi strumenti per guardare oltre, per creare e applicare le nostre idee alla realtà. Vi racconto quindi come è cambiato il nostro settore, come è cambiato il settore assicurativo, anche un po' quello finanziario, con l'arrivo del digitale. Dato un concetto, molti di voi avranno sentito parlare delle assicurazioni, ma avrete le vostre auto, le vostre moto, la vostra casa, magari assicurata, se non l'avete voi, il vostro effettore. Ma cos'è l'assicurazione? L'assicurazione è una scommessa forse? No. È un concetto diverso anche se appare molto simile. Vi annoio un minuto e poi non vi annoierò più. Ma è molto importante. L'assicurazione è il contratto con cui un soggetto, l'assicuratore, la compagnia, dietro il pagamento di un premio, soldi, si obbliga di cadere un altro soggetto, che è l'assicurato, e i primi di comprensione, del dato regato da un certo effetto. Quindi un primo principio importante, io non lo voglio, non voglio che la mia casa vada a fuoco, non voglio che la mia auto abbia un accidente, non lo voglio. Mi proteggo dal caso in cui questo avvenga. Nella scommessa, io voglio vincere, io scommetto i soldi perché voglio che la mia casa vada a fuoco. Quindi questo è il primo principio di mezzo. Un secondo principio molto importante. Nell'assicurazione c'è un interesse collettivo, c'è un interesse sociale. Nella scommessa c'è un fine personale, c'è un fine di lucro. Non c'è cosa, non c'è un concetto di mutualità. Perché le compagnie assicurano le nostre auto? Assicurerebbero forse da sola la compagnia, l'auto di Giuseppe? Se fosse solo Giuseppe l'assicurato, la comprirebbero la sua macchina? No. Perché? Perché loro si basano su una statistica, raccolgono i premi di tutta l'aula, di tutta la popolazione per distribuirli su una statistica di accadimenti. E quindi c'è un concetto di mutualità. Queste sono le principali differenze. E infatti l'assicurazione nasce con le spedizioni marittime. Nasce perché chi trasportava le merci o faceva spedizioni di esplorazione da una parte all'altra aveva paura di perdere cosa? Il carico con la mare. E quindi la assicurava. E come la assicurava? Se magari le compagnie ancora non c'erano. Per mutualità. Cioè, delle persone si mettevano insieme, come avvenne nel caso dell'Oriza, e dai preveditori del mare scommettevano, non è corretto, ma in realtà diciamo, mettevano un po' di soldi per uno per garantire che, in caso in cui la spedizione fosse male, quei soldi avrebbero coperto il darmentino. E quindi da qui nascono questi modelli. Ricordatevi però che l'assicurazione, a differenza di altri beni, di un bellissimo orologio, di una bella macchina, di un telefono, non è stato simbolo. Quindi quando noi vendiamo assicurazioni, vendiamo un concetto di protezione, vendiamo una risposta a un bisogno di sicurezza, ma non vendiamo qualcosa che io oggi porto a cena con me e Giuseppe mi dice che bella assicurazione che hai. Non accade adesso. Perché vi ho raccontato e vi ho annoiato con il concetto di assicurazione? Perché vedete che quando noi parliamo di scelte economie, parliamo di un concetto molto simile a quello della mutualità. Anche qui c'è mutualità. Stiamo parlando di qualcosa che si avvicina e di qualcosa che, ora vedremo, ha delle corrispondenze. Intanto la prima corrispondenza, la più grande, la più forte, è il trust, la fiducia. Quando io ti copro e ti proteggo come una polizza assicurativa, io ho fiducia in te, ho fiducia che Giuseppe non si comporti in modo scorretto, che se Giuseppe dovesse avere un problema sinistro, non lo va certamente perché se lo hai cercato. Purtroppo non è sempre così. Però il principio della fiducia è alla base dell'assicurazione. Beh, è alla base anche della scelta economica. perché quando condividiamo un bene, abbiamo tutti fiducia e quel bene lo utilizzeremo in modo corretto. E quindi questo è il primo dei principi su cui scelte economie e assicurazioni hanno diciamo delle assonanze e delle sonegi. L'altro è quello della catena del valore. Perché? Perché nell'assicurazione c'è una compagnia che assicura. Ma voi andate alla compagnia a fare la polizza? No. Andate all'agenzia. Andate dal vostro intermediario. Quindi c'è sempre un soggetto che fa da intermediario, tra il cliente e la compagnia. e nella scelta economica è uguale. C'è un soggetto che fa da intermediario perché mette in collegamento che può essere una piattaforma, che può essere un'applicazione. Chi ha bisogno di utilizzare un bene con chi questo bene lo mette a disposizione. Ho il suo titolo dicendovi che vi avrei raccontato cosa è cambiato nel nostro settore. E quindi parliamo dei driver di questo cambiamento. Primo, ancora non troppo presente in Italia, ma arriverà, è il concetto di proprietà. Prima avevo esigenza di avere un'auto di proprietà. Quante volte abbiamo acquistato un'auto o un bene e l'abbiamo tenuto lì. Io vivo a Roma, una città difficilissima per il traffico, lo sapete bene, e la mia auto, che è molto grande, purtroppo è difficile da utilizzare in città. E quindi io che faccio? La tengo in garage perché la uso semmai inesempionale. il concetto di proprietà sta cambiando e sta diventando un concetto di pay-per-views, quindi sta diventando un concetto di condivisione. Gli italiani ancora sono un po' attenti alla proprietà e quindi questo percorso è ancora diciamo non troppo presente. Però vediamo che nei grandi centri urbani è sempre più in uso. Pensate alle carcidote, pensate a enjoy, pensate a questi tipi di strumenti di condivisione di auto che ormai nei grandi centri urbani stanno dominando. Questo slide l'avrei cancellato perché insomma il ritardo del frecciarossa non è praticamente assimilabile a un miglioramento di trasporto pubblico. Però scherzando quanto è cambiato il trasporto in Italia? Quanto più rapido è il collegamento e quanto dovrà migliorare non solo in Italia ma insomma in tutto il mondo stiamo ormai interconnessi da mobilità. In alcune zone purtroppo limitano speriamo di recuperare in questo caso ma quindi anche il miglioramento del trasporto pubblico è un driver di cambiamento. Le città diventano delle piattaforme interconnesse. Ci ne accorgiamo ancora poco qui perché abbiamo città che vivono molto di storia di cultura e purtroppo dover realizzare opere non è semplice però chi come lui si trova spesso a viaggiare all'estero sapere quanto siano interconnesse le città e i mezzi di trasporto. Io due settimane fa ero a Mosca mi sembra 19 linee di metropolitana interconnessione tra metropolitana ferrovia e mezzi di strada ormai in ogni stazione quindi stiamo parlando di città interconnesse da tutti i punti di vista soprattutto da quello della Monta Poi naturale ma trovare la rivoluzione digitale quando ero piccolo mio papà aveva dei telefoni come quelli che erano enormi forse non riuscivo neanche a prenderli ma ora abbiamo un iPhone anche il caffè i computer vi ricordate qualcuno magari neanche l'avrà visto computer con i flop in isca o con i flop in isca addirittura con i grandi oggi lavoriamo con un hyper quindi è cambiato e il digitale è entrato nelle nostre case i cambiamenti normativi i cambiamenti normativi sono l'aspetto più delicato è chiaro che gli strumenti tecnologici ci portano in innovazione ma se questa innovazione non è affiancata da normi che cambiano noi con l'innovazione non ci faremo nulla se voi venite a trovare a trovarci nei nostri uffici vedete che nonostante noi siamo un'azienda che come tante altre sta spingendo molto per il digitale per la dematerializzazione siamo pieni di carta pensare che ancora io debba consegnare carta e debba gestire carta i processi di firma dove alcune compagnie stanno portando per innovativi soluzioni in cui qualcuno manda un corriere a casa per far firmare la polizza ecco voi direte ma scusa se la mandi su un'app io te la siglo e la filmo e te la rimando indietro ecco perché questo perché noi siamo un soggetto vigilato come lo sono le banche come lo sono altre e quando si è un soggetto vigilato o ci sono delle norme ci sono dei contratti e questi contratti per avere un valore legale devono avere un processo e devono avere delle regole che non sono cambiate o meglio stanno cambiando ma ancora non sono decine noi dobbiamo far firmare la polizza perché se Giuseppe vuole sottoscrivere la polizza con noi nonostante noi siamo dotati di una tecnologia con cui potrebbe sottoscrivere la distanza poi la nostra autorità di vigilanza ci potrebbe chiedere dove è la firma di Giuseppe vedete che se non c'è un cambiamento normativo l'evoluzione tecnologica subisce un freno è un freno troppo importante concentrazione altro target di cambiamento una forte urbanizzazione porta a concentrare nelle città vi ricordate avete studiato anche a scuola la rivoluzione industriale questa è la rivoluzione digitale sicuramente ma il concetto di visualizzazione è ancora più profondo grossi agglomerati di centri urbani dove vengono gestite tante attività e poi questi due concetti quello della green economy di cui state sentendo parlare ovunque ma in qualsiasi giornale apriamo spalla di green economy e quello della gig economy che è l'economia dei lavoretti l'economia dei lavoretti è quell'economia che da una parte è sopravvivenza dall'altra è anche opportunità perché se si rompe qualcosa a casa io ho anche qualche dubbio di sapere richiamare magari per farmi la giusta e c'è un modo di persone che sono in grado di farlo e che con strumenti tecnologici possono arrivare in un attimo aiutarmi e guadagnare il giusto profilo però si innescano dei profili di responsabilità questi profili di responsabilità cambiano le regole del nostro settore perché un conto è assicurare una società che di mestiere fa lavori in pianti idraulici e un conto è assicurare Giuseppe che siccome è bravo e sa aggiustare il tutto Giuseppe lo chiamo e viene a casa mia a fare non è un professionista della materia non ha una partita dedicata a questo lo fa attraverso strumenti di piattaforme di interconnessione tra le persone il concetto di un demand è un altro concetto che ha cambiato io ricordo quando si parlava di un demand sulle prime piattaforme televisive ricordate che ci dicevano potrete vedere il film al momento più vorrete quando e quando lo vedete oggi posso iniziare a vedere una trasmissione mezz'ora dopo che è iniziata e quindi poter usare un'applicazione e farlo ma questo non è solo per gli strumenti televisivi ormai tutto andrà quindi io ho bisogno di una polizza in quel momento la voglio acquistare in quel momento ho bisogno di un servizio bancario in quel momento non negli orari in cui lo decidi tu ma che ho bisogno alle 23 di notte un po' di tempo fa abbiamo realizzato questa intervista doppia con uno start-up diciamo famoso di settore e abbiamo creato questa doppia intervista che trovate su youtube che si chiama gli insulti e quindi diciamo partendo dalla parola insulti che è diciamo questa combinazione di assicurazione e tecnologia ho voluto creare per voi un piccolo vocabolario proprio per radicare il drama di questo video il primo con la intelligenza artificiale ovviamente in inglese prima l'artificiale qualche giorno fa mi trovavo in una diciamo vi provo a vedere la foto il topo mi trovavo nella possibilità di guidare una Tesla è una roba che non so se avete mai provato ma particolare intanto è un motore elettrico che non si sente già l'effetto di non avere il suono è devastante per chi è abituato determinato dal bambino ad amare il suono del motore e poi questa macchina ha un'accelerazione che è incontrollabile è veramente una cosa importante ma quello che mi ha stupito è che nonostante in Italia non sia ancora diciamo attivo il servizio di guida automatica e non sia diciamo neanche permesso nel codice della strada la macchina è in grado di guidare da sola e in Italia diciamo la necessità che ogni tono secondi bisogna toccare il volante perché sarebbe una vita domanda quindi stare al volante di un auto che gira da sola fa impressione perché non sai come di fare e questo è possibile grazie all'innovazione ma è difficile da gestire un cambiamento di genere per il nostro lavoro pensate all'impatto di un auto che va a sbattere chi è la responsabilità cosa è successo chi l'ha testata la stessa cosa potrebbe per quanto riguarda le chatbot quante volte vi è capitato ormai di trovare in un sito internet delle chatbot nel settore assicurativo pensate quanto potremmo risolvere in termini di cost vendita quindi di gestione sinistri se abbiamo delle chatbot efficienti se avessimo delle chatbot efficienti che sono lì a disposizione del nostro utente per dargli servizio anche a 24 in real time sulla sua volezza sul suo sinistro quindi l'intelligenza artificiale blockchain non possiamo parlare di blockchain non parlare di blockchain nell'era di blockchain anche se è una materia un po' indefinita una parola che hanno tutti in mente poi a qualcuno chiedi cos'è e non sa dire ad altri chiedono insomma lunghi perché è arrivata come un'entità indefinita qualcuno dice che sia veramente la rivoluzione che questa attività che questo diciamo strumento sia pari all'introduzione del web quindi a quell'introduzione del 98 come forza di impatto sulle nostre organizzazioni noi abbiamo iniziato ad usarla per la validazione dei processi quindi per poter certificare che in determinati momenti sono avvenuti delle transazioni come lo facciamo ordinando il blockchain ad uno smart contract quindi in sostanza lo smart contract è un contratto digitale tra più soggetti che aderiscono ad una piattaforma esempio noi assicuratori Giuseppe e la compagnia aderiamo punto dello smart contract Giuseppe sottoscrive la polizza noi che la intermediamo e la compagnia che copre il rischio poi in blockchain validiamo questo processo quindi abbinandolo allo smart contract certifichiamo che quella determinata operazione e quella accettazione di contatto è avvenuta se vi dovessi dire di essere certo che questa che questa implicazione sia valida dal punto di vista normativo vi direi no perché non c'è una sola regola della nostra autorità di vigilanza che si chiama IVAS istituto di vigilanza sulle assicurazioni che dice che questo è possibile però anche l'IVAS parla di blockchain e quindi noi cerchiamo da precursori di fare tutto il possibile perché le cose siano fatte in regola e con chiarezza ma dobbiamo aspettare poi una normativa che ci aiuta cos'altro ci consente di fare ci consente di fare le micro assicurazioni cos'è una micro assicurazione? sono diciamo quali piccole in parte è anche vero sono quali che io vado a sottoscrivere per coprire dei bisogni che sono temporanei che è un po' legato anche al concetto dell'instant che dopo vedremo cioè esempio vado a sciare sono all'ingresso delle piste e mi ricordo che sciando mi potrei far male un mio amico l'anno scorso che ha fatto male sciando non ho fatto la polizza cosa posso fare per il momento? posso aprire la mia applicazione e con l'applicazione posso sottoscrivere in tempo reale una micropropizza che mi copre appunto per quella giornata di sciare darmi il futuro questo è quello che vedremo oggi è diciamo una nazione che è più portata avanti per pubblicizzare il progresso tecnologico e il progresso del compagno di sicurezza ma domani dovrebbe diventare realtà cioè mi assicuro il momento che ho bisogno sto partendo per un viaggio sono all'aeroporto mi sono dimenticato che potrebbero rubare la mia casa mentre sono fuori e quindi voglio assicurare la mia casa per il periodo in cui sono fuori il blockchain dà certezza a questa transazione dà certezza al evento dà certezza ai protagonisti quindi ritorno nel discorso di trust di fiducia birtupier è un altro concetto innovativo qualcuno lo sta provando a portare nel settore assicurativo birtupier è condivisione del rischio che può portarmi alla fine del periodo a un barcato faccio un esempio anziché essere solo una persona ad assicurarsi per l'evento dell'infatturio decidiamo di creare tutti insieme qui in questa aula a un gruppo progenre di acquisto quindi io sono assicuratore e vi dico datemi tutti un premio questo premio è proprio il vostro in fortuna se alla fine del periodo quindi quando l'evento si è scaduta la compagnia è in attivo cioè non ha pagato sinistri o ha pagato sinistri misura minore rispetto al premio ne sotturiamo tutti insieme e quindi abbiamo una sorta di keepback quindi un ritorno economico a vantaggio di tutti quindi abbiamo creato un gruppo di acquisto vi ricordate quando c'è stato il periodo dei vari gruppi di acquisto si andava al ristorante si andava ascoltando delle tante lì era un principio di acquisto qui è un principio di condivisione del rischio però sempre un gruppo di acquisto le assicurazioni parametriche sono esso che si sono pericare assicurazioni parametriche si passano su dei vari ad esempio la più pocone quella che si sta diffondendo di più è quella legata agli eventi meteorologici ci sono pari di un riferimento un millimetrazzo di pioggia quindi io voglio assicurarmi che in quella determinata giornata non ci sarà più di 3 mm di pioggia se ci sono più di 3 mm l'assicurazione mi paga un indennizio perché io quel giorno speravo di portare la mia fidanzata a mare invece non ho potuto portare ma allora è una scommessa no non è una scommessa intanto io non voglio come vi ho detto prima che l'evento accada e dopo perché questo evento è condiviso quindi l'obiettivo delle assicurazioni parametriche è di condividerlo ma io la porto a mare a Napoli e tu la porti a mare a Roma sì ma il rischio sottostante è della stessa tipologia e quindi a molti più c'è il concetto di mutualità perché l'offrazione in aree territoriali diverse se vi ricordate quando ci furono i mondiali del 2006 c'erano i supermercati che dicevano se vince la squadra della tua nazione l'Italia io gli regalo un altro televisore rispetto a quello che tu le comprate la stessa operazione che veniva assicurata quella catena di sovrattivi di implementatori di tecnologia era assicurata in Francia e in Germania quindi c'era un principio di mutualità tre nazioni che era già i soldi dei premi complessivi avrebbero garantito che una delle tre nazioni che avesse vinto sarebbe stata operata cyber security è un'altra parola che sentite continuamente naturalmente dal punto di vista assicurativo questa è un rischio che un'opportunità perché è un rischio perché noi facciamo polizze per coprire le aziende nel caso in cui i sistemi delle aziende vengano operati ci siano perdite di dati ci siano diffusioni di dati a terzi ci siano utilizzo i propri dati pensate le carte di credito che possono essere prese dai sistemi dei server dell'azienda però per noi è anche diciamo dall'altra parte una opportunità di vendita quindi è un rischio ma è anche un'opportunità di aprire al nostro settore un prodotto che prima non c'era quindi fino a qualche anno fa nessuno avrebbe parlato di una polizza cyber oggi ormai vedete le pubblicità televisione su questo tipo di prodotto i dati sono la forza il potere del momento che i dati vince perché i dati ci permettono di fare analisi e di essere predittivi vedete le assicurazioni si sono sempre basate su modelli statistici e su modelli predittivi perché a Napoli l'assicurazione auto costa di più che all'inizio perché ci sono stati storicamente sinistri maggiori le compagnie hanno pagato di più quindi basa il loro premio su un calcolo che è quello della frequenza dei sinistri cioè quanti sinistri ho in una determinata zona e dell'andamento tecnico cioè quanti sinistri ho pagato sulla base di questo che ha ancora una proiezione quanti ne pagherò avere dati avere dati sempre più efficienti sempre più puntuali ci permette di poter avere delle informazioni precise per poter fare dei calcoli attuali sempre più performanti e questo ha vantaggio di tutti delle compagnie perché con un dato più preciso possono guadagnare di più ma vantaggio anche del consumatore del cliente perché posso profilarlo e quindi posso attribuire a noi un gradiente di rischio diverso a seconda dei dati di cui sono in possesso l'internet delle cose questa è la prossima frontiera l'internet delle cose ormai sta arrivando in tutte le nostre abitazioni abbiamo dispositivi connessi possiamo accendere la luce a centinaia di chilometri di distanza possiamo controllare la nostra casa con le telecamere online e anche noi abbiamo dispositivi che indossiamo pensate a smartwatch pensate a tutti quelli che sono i bracciamenti e i dispositivi indossabili per rilevare il movimento le attività fisiche quello che noi facciamo questi strumenti diventano strumenti che da una parte sono utili alla nostra vita quotidiana alla nostra salute alla nostra casa dall'altra sono informazioni che le compagnie assicurative possono utilizzare a loro vantaggio e non è un caso che iniziamo a trovare negli scaffali prodotti venduti incomprenti tra fornitore tecnologico e compagnia assicurativa o che anche compagnia assicurativa addirittura ci regalano lo strumento perché diventano dei fornitori di servizio e dei fornitori di prodotto e questo è un'altra frontiera molto importante che affronteremo nei prossimi anni ma che darà dei risultati utili al nostro sistema pensate ad esempio alla necessità di assicurare una persona per il caso della vita quindi il rischio morto che chiamiamo il caso della vita il più bello ma nel nostro centro che si chiama temporale caso morto è chiaro che assicurare i rischi di morte di una persona sedentaria che non fa attività fisica che ha la pressione alta che ha determinanti parametri vitali non propriamente adeguati è più rischioso rispetto che assicurare uno sportivo una persona che tutti i giorni ha diciamo attenzione al proprio corpo alla propria salute magari anche a quello che mangia quindi questi parametri influenzano il rischio e ci permettono di non calcolarlo più sulla base dell'età e del sesso ma di calcolarlo sulla base di molti molti altri parametri questi che vi ho portato sono alcuni esempi di strumenti che si vedono interconnessi strumenti ad esempio per la misurazione dell'idealazione quindi quanto bevo durante il giorno strumenti che consentono di verificare se ci sono determinati esercizi se vengono fatti determinati esercizi ad esempio in campo riabilitativo in campo terapia strumenti che ci consentono di monitorare l'attività sportiva questo penso che vi conoscete tutti e per esempio il fornitore che vi raccontavo prima è iHealth trovate ormai addirittura dispositivi e sensori venduti insieme alla polizza sicurezza questa è una vera evoluzione vi ho raccontato prima quindi vado velocemente la polizza instant come funziona il principio di istantanità nell'acquisto risolvono un problema quindi mi copro al momento del bisogno non più in logica preventiva diciamo ma mi copro quando effettivamente sto pensando per poter avere risparmi non dopo non dopo mobile beh l'abbiamo detto prima è un'attività digitale vuol dire poter utilizzare anche gli strumenti tecnologici per raggiungere i nostri clienti e per gestire le risposte questa è una macchina che vi dicevo prima che ha di dato di guidare ma ci sono anche un po' particolari in queste che si andano però l'auto a guida autonoma diventerà un tema che è già un tema allo studio in quasi tutte le comprate assicurative sul mercato tutto questo che abbiamo visto a cosa ci porta? ci porta alla creazione di un nuovo mercato un nuovo mercato assicurativo che è completamente diverso da quello dei miei genitori un mercato assicurativo che è fatto di customer experience il cliente prima entrava pagava la polza se ne andava lo rivedevano dopo un anno oggi il cliente è un cliente che ha bisogno di essere sempre connesso sempre di avere sempre l'interazione con noi e di avere un'esperienza anche nell'acquisto che non è più solo comprare il prodotto perché è obbligatorio ma è consigliarlo guidarlo e seguirlo anche nel periodo successivo all'acquisto informazioni quindi dati lo abbiamo raccontato più consapevolezza del rischio perché i dati e le informazioni e la trasparenza ci portano a consapevolezza da parte di tutti e tutti gli attori di chi protegge e di chi deve essere protetto e poi più servizi perché le tecnologie ci permettono di darlo l'abbiamo visto ma anche più prevenzione perché io posso richiedere al mio cliente di essere più attento nella sua vita e nella sua cultura e quindi si crea una nuova catena del valore che non è più solo quella che abbiamo visto all'inizio ma è una catena del valore fatta di compagnie assicurative che vendono un mix di prodotto di servizio e di esperienze e questo è quello che troveremo nei prossimi abbiamo parlato di digital transformation di cambiamenti di tecnologia però quello che è importante che il nostro settore deve fare è dare un valore a questo a questa tecnologia perché il cambiamento culturale è quello che è più difficile poter avere il cambiamento culturale deriva dalle nostre teste dalle teste di chi fa questo lavoro e chi è abituato magari a farlo pochi anni fa e quindi non è facile cambiare le sue abitudini e cambiare il suo modo di reagire e allora come possiamo fare per aiutarlo possiamo farlo come stiamo facendo oggi cioè comunicando interagendo scambiandoci delle informazioni e cercando di creare in lui come i nostri clienti una chiave di comunicazione e di informazione vi ho portato un caso che mi è stato sottoposto recentemente per dimostrarvi come sta cambiando il nostro settore in relazione alla scelta di economia sono venuti da noi dei ragazzi che hanno creato una start up che si occupa di diciamo condividere degli orologi di uso quindi loro hanno pensato di acquistare degli orologi qualcuno mi avrà di metterli insieme e di creare un atto per far sì che se uno di voi o uno di noi voglia una serie di ossia e un orologio che non ha può richiederlo pagare una piccola quota e quella si pagherà questo orologio però c'è un problema è un orologio che trovo in mente ha un valore e quindi questo orologio può subire un danno o addirittura può sparire quindi si rivolgono a noi e ci chiedono come poter coprire questo rischio noi stiamo cercando di approcciare questo tipo di mercato ed è molto difficile perché perché le compagnie assicurative non conoscono questo rischio non c'è una compagnia che ha un prodotto già pronto per fare questo non c'è una compagnia che ha un dato storico perché dieci anni fa non si faceva queste quindi chi ci dà le informazioni su quanti sinistri potrebbero avvenire come fa l'attuario a fare il calcolo di una tariffa che prezzo ti faccio pagare non so quanti eventi ci possono essere non ho una storia quindi comprendete come l'evoluzione digitale e i cambiamenti anche nelle attività economiche stanno portando anche dei cambiamenti radicali al nostro modo di abbracciare noi non abbiamo una soluzione pronta per un tipo di soluzione come questa però è un bisogno che prima o poi dovrà essere coperto perché altrimenti loro non possono partire e quindi la start-up è ferma ti darebbe un orologio in mano a uno sconosciuto senza essere garantito che nel caso in cui subisco un danno o un furto venga esercito e quindi arriviamo a quel concetto che dicevo prima fondamentale i dati che noi accogliamo sono il diciamo lo strumento più prezioso perché sono strumenti che ci consentiranno di poter governare il rischio oggi e domani di poter avere dei dati precisi che possono permetterci di calcolare un premio e domani di offrire una nuova forza ho lasciato un tempo finale per eventuali domande se c'è qualcuno che diciamo vuole chiedere qualcosa qualche curiosità sono qui e mi è stato veramente piacere stare con voi prima ringraziamo applausi e per assolutamente l'ho visto come la disperanza dei contenuti delle modalità si inserisce in maniera perfetta rispetto a quelle che sono le nostre elezioni per cui vi dare un record solo delle evoluzioni dei fenomeni che stanno emergendo già da qualche anno quindi grazie al Corsico grazie per questa opportunità magari potremmo anche poi legando al questo questo anche che ti può affiancare il lavoro per la testa insieme a la testa grazie grazie